La Regione Puglia potenzia gli autobus sulla linea regionale Foggia-Scampitella e sulla linea provinciale di Foggia-Monte Sant'Angelo-San Giovanni in Rotondo e Monte Sant'Angelo-Foggia. A deliberarlo è stata la Giunta regionale su una proposta condivisa tra gli assessori trasporti e mobilità sostenibili Anita Mauro Di Noia e al bilancio ragioneria Raffaele Piemontese sulla base delle verifiche svolte dopo una serie di segnalazioni espresse dai diversi territori. Il sovraffollamento negli orari più utili ai lavoratori pendolari le aumentate necessità degli studenti, l'allungamento dei percorsi a servizio di aeree interne. Questo è stato l'obiettivo per dare una risposta flessibile ad una domanda di mobilità sul trasporto pubblico locale che sta assumendo nuove forme. E' emblematico il caso della corsa denominata Polo Spedaliero di Foggia che parte da lunedì al sabato alle 5.25 del mattino da Monte Sant'Angelo verso Foggia e alle 14.25 da Foggia a Monte Sant'Angelo. La maggior parte dell'utenza è costituita da operatori sanitari oltre che da studenti in infermieristica che da Monte Sant'Angelo e Manfredonia devono ogni giorno recarsi verso le diverse strutture ospedaliere e universitarie di Foggia. La presenza di cantieri poi ha imposto modifiche percorsi della tratta Foggia-Scampitella, una linea molto importante perché collega la comunità dell'area interna dei Monti Dauni ad accessibilità difficile. Gli autobus si muovono infatti da Foggia, Anzano di Puglia, Accadia, Monteleone, la frazione di Mastralessio, Scampitella, in provincia di Avellino, Castelluccio De Saure e di nuovo in provincia di Foggia e viceversa.